Sequestri al clan cesarano tra Castellamare di Stabbia e Trento, quote sociali e patrimonio aziendale di due società di vendita e di noleggio di veicoli, auto, moto e imbarcazioni, per un valore di circa 200.000 euro, società attive anche nel porto di Castellamare di Stabbia. La misura scaturisce dai approfondimenti patrimoniali messi in atto dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castellamare di Stabbia e coordinati dalla DDA di Napoli in merito alle investigazioni sul clan cesarano che avevano consentito di disarticolare i vertici del sudalizio ed erano sfociate in misure cautelari personale per 18 indagati, eseguite dai carabinieri lo scorso 10 luglio. Nello specifico, le attività di indagine avevano permesso di raccogliere gravi indizi circa l'attuale operatività del clan cesarano, tra estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti e detenzione di armi finalizzata all'acquisizione del controllo delle attività illecite e illecite di Castellamare di Stabbia, di Pompei e delle zone limitrofe. Le indagini avevano inoltre permesso di ricostruire gli assetti organizzativi, direttivi ed operativi del clan e di raccogliere gravi indizi di colpevolezza non soltanto in ordine alla commissione di una serie di reati, ma anche in relazione al tentativo degli indagati di ripulire i proventi delle attività illecite e mediante il loro reinvestimento in beni mobili e in settori imprenditoriali come quello del noleggio auto e quello nautico. Più precisamente nel corso delle investigazioni si è potuto ipotizzare che la sede di un auto concessionario fosse divenuta la base logistica del clan cesarano e la sede di periodiche riunioni degli affiliati. Non solo, tre indagati ritenuti ai vertici del clan avrebbero trasferito denaro nel noleggio di autovetture e di imbarcazioni presso il porto turistico di Marina di Stabbia, creando una società DOC in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza.